non specificatamente a questioni economiche, che però sono tutti organici, sia l'uno all'altro, in tutte le loro materie e competenze scientifiche interdisciplinari oppure disciplinari. Bene, dagli anni Ottanta invalsi la normale abitudine del pagamento di parcelle a chi teneva conferenze o seminari, ma quando i CGL ad esempio dissero all'albergo, professore, che già questo era per lui offensivo, prima di andarsene dovrebbe passare all'ufficio di amministrazione. Quando però seppe che era per essere pagato, dovrebbero correre che erano proprio davvero intanti dagli uffici, perché nessuno riusciva più a tenerlo e a lanciandone accuse di eri, poi si sono rivelate eri, di corruzione e che sono state introdotte direttamente, diciamo pure, dalla componente socialista grexiana all'interno della CGL che però man mano è diventata anche gemone, fino al punto che oggi esprime la segretaria della CGL. Per lui questa cosa qui dell'essere pagato per tenere un discorso era solo una prova in più, diciamo, in quanto di parafina di quanto andava sostenendo da tempo denunciando il compromesso di classe, non il compromesso storico, ma il compromesso di classe, cioè il vero compromesso storico, quale non era quello che la destra di C assunse come compromesso di governo, attribuendolo a Berlinguer che invece era contrario ma veniva regolarmente messo in minoranza nella direzione della segreteria. E una autorevole conferma di questo, anche rispetto al comportamento della destra di C, rispetto alla mafia, ci è venuto di recente anche da Nicola Ciccola, sostenitore di La Torre che ho avuto un modo di incontrare recentemente qui da noi tramite anche Mario Agostinelli che lo conosceva, ci è venuto proprio la conferma del fatto che Berlinguer era regolarmente in minoranza all'interno della direzione e della segreteria del partito. Cosa che sapevamo? Che abbiamo avuto una autorevole conferma in più da questo che è uno storico senatore del PC, famosissimo, Nicola Cipolla, che fu il protagonista delle proposte della riforma agraria negli anni 50, negli anni 60, appunto che come sapevamo e sapeva Dalbergo che riteneva Berlinguer il prosecutore della strategia togliattiana e della Costituzione che acquasse nella prassi quel che solo a parole, in massa e potere aveva sostenuto in grado che Dalbergo non si peritò di criticare in un articolo sull'unità proprio per la sua proposta di costituire un governo incostituente prima ancora di Cossiga che lo lanciò successivamente. Lo hanno ucciso, riferito a Berlinguer. Furono le parole di Salvatore, affranto, mentre insieme andavano avanti e indietro per i corridoi della Cigiene e Lombardia, con il suo orecchio attaccato alla radiorina, che aveva sempre con sé che ascoltava, da mani a sere e anche di notte, seguendo i fatti in tempo reale. Questo a proposito di chi dice che sarebbe possibile solo oggi con le nuove tecnologie. E a prova di questo Dalbergo portava, l'aver visto personalmente e più volte Perlinguer, uscire dalla sala della direzione con il volto congestionato, violaceo con sangue alla testa, per la durezza degli attacchi, degli scontri generali e con il mio oggetto.